ciao amici direttamente da Fuerteventura guardate oggi che vento che c'è qua Fuerteventura la cosa bellissima vedete io faccio così lo prendo e si attacca da solo il vento appende anche i quadri vedete qua scusa mano come un spaventapassoli ragazzi non sono a Fuerteventura stavo scherzando sono all'isola verde in spiaggia è meraviglioso l'Italia è un posto meraviglioso sembra di essere in Spagna sembra di essere a Fuerteventura oggi guardate gli asciugamani stanno su da soli sembra di essere a Fuerteventura signora vero? è vero è vero